La politica ha dimostrato purtroppo, e lo dico da imponente politica, di non saper centrare il punto e di perdersi in valutazioni e calcoli che nulla hanno a che fare con la tutela dei diritti delle persone LGBT in questo caso, ma a me piace parlare dei diritti dell'essere umano, perché l'uguaglianza è un diritto che spetta all'essere umano in quanto tale. E quindi ben vengono iniziative di questo tipo che possono dare una scossa alla politica e anche raccogliere il sentimento del paese che ha dimostrato di essere molto più avanti della politica.